Aprire una melagrana è molto semplice, vediamo subito come fare. Prima di tutto con un coltello seziono la zona attorno alla corona, eliminando poi questa specie di coperchio. E si può notare che all'interno il frutto è suddiviso in sezioni, separati da una membrana chiamata cica. La melagrana è un frutto carnoso, chiamato anche balausta. Quindi il prossimo passo è quello di fare dei tagli verticali sulla buccia nel punto da cui parte ogni membrana. Ora si possono afferrare le sezioni e portarle verso il basso, ad una ad una o due per volta. In questo modo si ottengono tutti gli spicchi da cui si possono staccare in modo facile e veloce tutti i chicchi o arilli, perché la membrana si può eliminare fin da subito. Sgranateli delicatamente con le dita finché non saranno tutti finalmente staccati, pronti da mangiare, da frullare o preparare come più piace. Ma mi raccomando, non fate sparire tutti i semi, perché se non ci avete mai pensato sappiate che potreste ricavarne tante belle piante. Vi ricordo di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivare la campanella e disseminare i miei video sui social per contribuire a far crescere il canale. Grazie a tutti.